Cari codisti ed eccoci Allora, test Long Run Seagway Mini E siamo qua, stasera abbiamo dato all'architetto Dicesi architetto, famosissimo architetto di Milano Che erano due mesi che sbramava di poter salire su un veicolo elettrico Stasera gliel'abbiamo dato e questo è praticamente tre minuti dopo che ci è salito Erano tre mesi che ci si provava sul monoruovo Vai, fammi una ripresiva Guarda, sei già andata Fabiotti, vai 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 No, vai con io E te lo passo poi Ma non fassi un cazzo e tu non sai che fai Vai tranquillo, è pubblicato su internet, vai Ovviamente stiamo, non glielo diciamo, guardalo come va, guardalo Adesso arriva la macchina, se lo porta via Vieni, fai un cazzo Fermato la macchina, guardalo Cioè ragazzi, tre minuti, non è che tanta roba Sono tre minuti che c'è sopra Va, ha già provato a salire e scendere dai marciapiedi Gli abbiamo detto di non farlo Ma l'architetto se ne sbatte i coglioni Grande architetto, come va? Bene, bene Il prodotto Spettacolo Il prodotto vai da un suo Facciamo anche piccolini Perché c'era il rosso Sì, sì Adesso facciamo anche due riprese Eccolo qua E prendiamo, abbiamo due riprese C'è una sopra e una sotto L'architetto che va, sta cercando di uccidere due tipe Torno indietro Sempre seguo i mini Guardalo Guardalo Adesso se non mi sposto mi prende No, è riuscito a fermarsi Grande architetto Vai, numero uno Spettacolare Da lui E ragazzi vi dico che come architetto è veramente un caga Ma proprio rompi ball Cioè se vi dice lui che va bene Questo sì, quei mini dopo tre minuti Erano dei mesi che ce l'aveva di voler salire Secondo me adesso sta andando troppo Perché sono tre minuti che sta andando Per me era una bella piallata Invece non molla più che altro il prodotto che lo salva Signori Test long run Quaddisti.it E seguo i mini anche a prova di architetto Ma sembra che vi stiamo prendendo in giro A dirvi che sono solo tre minuti che c'è salito Non c'era mai salito Ma la realtà è questa Signori Da Quaddisti.it Dalla squadra corso Guarda che è salito pure sul basello Spettacolare Un saluto Dal fero E dal mini segue Il test long run Mi sta andando fortissimo Però Adesso ve lo faccio vedere Che secondo me si spiattella No, niente E' proprio spettacolare il prodotto Dal fero Un saluto E' proprio spettacolare il prodotto